Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Gianni Sperti insultato in diretta. È accaduto nello studio di uomini e donne, tutto è stato condiviso anche sui social In questi anni è stato fatto un lavoro egregio, in quel di Mediaset, per mantenere sulla cresta dell'onda programmi che hanno ormai già diversi anni di onorato servizio Molti di questi hanno in calce la firma di Maria De Filippi, una delle signore della televisione italiana e senza dubbio un punto di forza di tutta l'azienda che fa capo a Pier Silvio Berlusconi Grazie a lei alcuni format hanno raggiunto un livello di notorietà altissimo, frutto del duro lavoro non soltanto di Maria ma anche di redazioni, produzioni, e tutte le persone che insieme a lei hanno lavorato a questi programmi Gianni Sperti.Tra questi non si può non citare uno di quelli più iconici in assoluto, ovvero uomini e donne Sono passati tantissimi anni dalla prima puntata, eppure questo rappresenta ancora oggi un programma di punta per Canale 5 I motivi sono ovviamente diversi, ma l'intrattenimento Mediaset è molto concentrato proprio su format che hanno come comune denominatore i sentimenti, il talento, pensare ad amici, e le emozioni In uomini e donne si sono avvicendati tantissimi personaggi trattronisti e corteggiatori, e così si è arrivati anche a creare moltissimi dei volti che oggi la fanno da padrone nel mondo dello spettacolo All'interno di uomini e donne, nella fattisface, ci sono anche alcuni pilastri dei quali Maria non potrebbe fare a meno Basti pensare ai due opinionisti che in questi anni hanno aiutato proprio la conduttrice nel tenere vive le dinamiche all'interno dello studio Gianni Sperti e Tina Cipollari sono punti di forza per uomini e donne Da anni sono presenti all'interno dello studio, e sono le due voci che commentano tutte le vicende che accadono dentro il programma Uomini e donne, vola un insulto verso Gianni Sperti, ecco da chi Ma com'è il rapporto tra Gianni e Tina? Spesso i due si scontrano quando si ritrovano a commentare quelle che sono le dinamiche del gioco Il tutto ovviamente aiuta anche il pubblico che si fa un'idea ed eventualmente decide di aderire ad una delle due fazioni, Sperti o Cipollari Di base, però, è anche vero che entrambi vivono un rapporto molto forte di amicizia Quest'ultimo aspetto, va detto, non evita che si possano creare scintille all'interno dello studio Stories di Gianni Sperti.E così è stato lo stesso Gianni che, attraverso le stories del suo account Instagram, ha pubblicato un siparietto accaduto in studio proprio insieme a Tina Ce l'aveva pure con te, Cornuto, l'accusa fatta proprio nei confronti dell'ex ballerino La reazione di Gianni? Se la ride, come spesso succede quando bonariamente la Cipollari fa volare qualche parola grossa e qualche insulto nei suoi confronti Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video